Simona De Caro, sindaca uscente del comune di Monsummano, si ripresenta con la coalizione del centro-sinistra. Quali sono le priorità del vostro programma elettorale? Proseguire sicuramente con il lavoro fatto, quindi vedere il termine della nostra bellissima piazza, i due impianti sportivi, il Palacardelli e la nuova struttura geodetica, il nuovo Campoberti e poi il progetto di riqualificazione del nostro chalet e il grande parco urbano, quindi riportare il bosco in città. Se dovessi indicare tre concetti prioritari per la coalizione di centro-sinistra, quale indicheresti? Sicuramente la scuola, quindi noi abbiamo il progetto del nuovo Forte insieme con la provincia da realizzare, il progetto delle nuove scuole del Cintolese e poi la sostenibilità, tutto il tema della sostenibilità ambientale che è assolutamente fondamentale per la nostra coalizione. Il terzo, naturalmente l'attenzione alle fasce più deboli, attenzione che abbiamo avuto in questi anni e che assolutamente dobbiamo proseguire nel lavoro.